Allora, una signora partorisce un bambino. Allora, logicamente è curiosa di vedere il suo bambino. Allora, domanda all'ostetica, scusate, io ho partorito poco fa un bambino. Guardate signore, qua dal pian terreno fino al quinto piano ci sono tutti i bambini. Vedete voi dove sta. Va bene, grazie. Allora la madre si appresta a vedere il bambino nel primo nido che si presenta al piano terra. E vede vicino al vetro bambini bellissimi. Dunque bambini bellissimi, speriamo che sta a cammino e sta a cammino. Dunque Pasquale, Raffaele, Vincenzo, Federico, Gianluca, Marco. Non ci sta, non ci sta. Ciro, non ci sta. Va bene, allora forse sta al secondo piano. Arrivate al secondo piano e vede vicino al vetro bambini belli. Bambini belli. Speriamo che sta a cammino. Ciro, Raffaele, Pasquale, Vincenzo, Luca, Gianpiero. Gennaro, Ciro non ci sta. Scusate, io ci parto lì, da un bambino tre, quattro ore fa. Sarei curioso di vederlo. Come già fa? Signor avete visto? Non l'avete visto? L'avete visto? Sì, ha già visto questo secondo piano. E vedete, vedete al terzo piano che ci sta, in altri video, non preoccupate. La mamma arriva al terzo piano, stessa qua. E vede vicino al vetro bambini brutti. Ma come non importa a me? Pure che è brutti, basta che ho figli. Dunque, 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 Pasquale, Giovanni, Gianluca, Filippo, Federico, Matteo, Matteo, Maria. E Ciro non ci sta. Ma già ha il piano di coppia. L'ha già fatto, può essere questo piano di coppia, il quarto piano. Arrivate al quarto piano e vede vicino al vetro bambini bruttissimi. Ma come non importa a me? Pure che è bruttissima, basta che ho figli. Amico, sempre voglio fare, sono curioso, lo farei, sempre sangue mie. Dunque, allora, fammi fare, dunque, 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 dunque. Maria, Teresa, Filippo, Giacomo, Anna Maria, Carmela e Ciro in Cestania. Lo starà, stucide. Scusate, io anche parto a rito, quattro ore fanno bambini. Ma lo starà, signor avete visto? Qua stanno quattro ore, è andata al piano di sopra. Questa l'ora fa al piano di sopra, e vede bambini orrendi. Bambini orrendi. Mamma mia, ma pure che orrenda, a me come non importa, sempre sangue mie. Dunque, bambini, dunque, 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 dunque. Filippo, Federico, Luciano, Mario, Giovanni, Federico, Filippo, e Ciro non c'è sta. E Ciro non c'è sta, scusate, trovate la curiosità. Io mi ho fatto tutti questi piani, e non c'è nessuna parte, figlio mio. Io ho partito a rito quattro ore fa, e non c'è mio figlio. Io non ho capito, ma lo starà, sto figlio, io ho partito lì. Sì, d'ammi Ciro. Ah, signor, che non c'è, c'avate visto tutti questi piani, l'ha già visto. E io volevo piano di coppia. Allora la madre, dopo, arriva all'ultimo piano, e vede vicino a vedere, a vedere un grosso, 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 con una scitta enorme, ciglio. Mi è piaciuto? Malcolano, vede più aciù. No, no, no.